FIFA Fra poco hanno avuto un po' di Fortuna Fortuna Ho inquadrato il gesto Fortuna E i primi classificati hanno vinto meritatamente contro di noi Nella finale, nel winner Però un gol su punizione preso così Vabbè, ci sta alla fine L'importante è essere venuti Aver preso qualcosa Ma infatti, infatti ci sono arrivati i terzi Sì, sì, non so dove l'ha visto il cane Forse quello del ragazzo intendeva Perché l'unico cane a parte quello del ragazzo era lui Ma dimmelo, questo terzo posto Meritato, vi aspettavate di più Com'è? Qua per vincere Cosa? E invece vi accontentate di un terzo posto Vabbè, dai, vi rifarete domani nell'uno contro uno Domani mi porto la coppa, ve lo dico, vi avverto Allora, subito già che ci siamo Andiamo a conoscere i secondi classificati Secondo posto, li conosciamo molto bene I fratelli Binosi Eccoli qui, loro sono? Umberto Binosi E Lorenzo Allora, secondo posto Qualcuno mi ha detto che avete avuto molta, molta, molta fortuna No, non è vero, abbiamo meritato No, sì, siamo stati fortunati Tutti i gol che abbiamo fatto praticamente Poteva finire diversamente Poteva finire diversamente? Magari un pareggio, sì Ma di più no Siete comunque i migliori? No, se siamo secondi non siamo i migliori Le avete battuti loro Che dicono, ah no, hanno avuto soltanto una gran fortuna Sì, è vero Abbiamo avuto una gran fortuna È vero, l'ammetto Del pareggio per loro no Questa finale com'è andata? È andata però in parte bene Si è andata in vantaggio due volte Però non abbiamo saputo gestirlo Emozioni, emozione Eh, ho fatto due stronzate Come mai? Cosa intendi? Non lo so, sarà un po' la stanchezza Ho fatto due errori gravi, gravi E abbiamo preso due gol Lo perdoniamo il fratellone Lo perdoniamo dai Dai, lo perdoniamo e andiamo a vedere il migliore di oggi Campioni assoluti del 2 contro 2 di FIFA 13 Eccoli qui, loro sono? Antonio Collura Emanuele Valdini Un po' diciamo che vi conosciamo Allora ragazzi, ci han detto che siete stati veramente forti Confermate? Sì, abbiamo giocato bene E abbiamo meritato di vincere secondo me Ma proprio così, conciso Che mi dici di questa finale? Eh, la finale è stata un po' difficoltosa Ma con un po' di fortuna alla fine E siamo riusciti a vincere Quindi facciamo così Vittoria meritata, sì o no? Per me sì, sì, sì Allora, nient'altro da dire Siete campioni del nostro torneo 2 contro 2 Vedremo nel prossimo 1 contro 1 Se sarete bravi ugualmente E allora ragazzi Vi invito al prossimo torneo E tutti voi Venite a battere loro Che sono i nostri campioni Che sono i nostri campioni Che sono i nostri campioni Grazie a tutti Grazie.